aspettare senza aspettative, aspettare senza cercare di cambiare gli altri, senza aspettarsi dagli altri che siano o che facciano cose che tu vorresti ma che non avvengono. Dottore sa perché sono una fallita? No, mi dica signora, è perché io soffro di disistima a tal punto che mio marito da cui sono separata sa quanto ho voluto, ho cercato di impormi perché lui curasse le figlie, ritenessi più con sé senza riuscirci, evidentemente non sono abbastanza forte da impormi. No, evidentemente stai guardando senza ricordarti che in te c'è un sapere innato al quale è del tutto indifferente se tu ti imponi o no e non è fatto perché tu con sforzo o con forza cambi gli altri, è fatto perché tu giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno impari a portare avanti le cose che ti caratterizzano.